Amici di Bella Sicilia, mai visto un maggio così? Continua a piovere, guardate un po'. Non so da dove ci state seguendo, scrivetelo nei commenti, fateci sapere anche qual è il tempo dalle vostre parti. Qui, continua a piovere. Oggi siamo nel Messinese, ieri eravamo nelle Madonie. A Gangi, dove proprio la pioggia ha fermato la storica processione dello Spirito Santo. Non accadeva da 65 anni. E oggi guardate com'è ancora questa giornata. Mai visto un mese di maggio così pioloso? Abitualmente in questo mese di maggio si andava al mare, ma bisognerà ancora aspettarli. Ci salutano dalla Francia, anche in Francia piove. Ciao Mariella. Vediamo chi ci saluta dalla Puglia. Anche a Puglia, anche a Como piove. E sì, dai, salvatore, un po' di acqua ci vuole, ma questo mese di maggio è stato particolarmente piovoso. È rimandato a tanti programmi. Come dicevamo, ieri siamo stati nel Palermitano, nelle Madonie. Volevamo raccontarvi la caratteristica processione dello Spirito Santo, con 40 santi che vengono portati in processione. Ma alla fine l'evento è stato annullato proprio a causa pioggia. Forse la ci segue da Milazzo, proprio più vicino, ecco. Qui in fondo. Noi ci troviamo in questo momento in un bordo del Messinese San Piero di Ceto. Ci salutano da Roma a Ragusa. A Berlino ci fanno sapere che c'è il sole, quindi in Germania, a differenza della Sicilia, c'è il sole. Dai. Il meteo è davvero strano. A luglio sicuramente farà bel tempo di venire in Sicilia. Penso che saranno gli ultimi giorni in bel tempo e poi ci aspettano giornate con sole, anche, immagino, con molto caldo. Buongiorno a Teresa, Franco. Vi abbiamo aggiornato così in tempo reale sulla situazione meteo. Voi continuate a scriverci da dove ci seguite e fateci sapere anche qual è il meteo dalle vostre parti. Noi vi auguriamo un buon pomeriggio dalla nostra bella Sicilia. Bella sempre, anche quando piove. Grazie. Grazie! Grazie a tutti.